. Moto3, Marco Bezzecchi con PRU con Gheresi Stelgp nel 2018 Moto3, Marco Bezzecchi con PRU con Gheresi Stelgp nel 2018. Di Flavio Azzori lunedì 28 agosto 2017. Florian PRU con Gheresi Stelgp, da tempo eravamo in trattativa con la VR46 Readers Academy e la KTM, alla fine siamo riusciti a definire questo accordo. . La classica detta del moto mondiale continua a sistemare le proprie pedine per il 2018. La notizia ufficiale di oggi è la firma di Marco Bezzecchi che correrà il prossimo anno con il team Prustelgp. . 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